Un breve briefing, ringrazio il Vice Ministro Nencini della visita ufficiale istituzionale qui a Palazzo San Giacomo e il Comune di Napoli ed è stata l'occasione per fare ulteriormente il punto su un tema che ci vede da prospettive istituzionali diversi ma impegnati fortemente per consolidare l'impegno delle istituzioni su un tema assolutamente centrale che è quello del diritto all'abitare, dell'edilizia popolare e di tutto ciò che si sta mettendo in campo per coniugare risposte rapidi ed efficaci per garantire a quante più persone possibili un diritto al tetto e nello stesso tempo operazioni di legalità, di trasparenza, operazioni di riordino complessivo del settore e di verificare anche le risorse economiche necessarie che si possono impegnare. Abbiamo illustrato, ma il Vice Ministro già conosceva perché non è la prima volta che ci vediamo chiaramente, tutta l'attività che il Comune di Napoli ha messo in campo in questi anni, dal settore della trasparenza, le graduatorie, i condoni, i censimenti, l'internalizzazione della gestione del patrimonio dopo l'esperienza Romeo, l'edilizia popolare, Bagnoli, Levele, Ponticelli, Via De Messi, Chiaiano, Pianura, Soccavo, l'albergaggio sociale, l'amorosità incolpevole e poi come dire anche il lavoro che stiamo cercando di fare con la Regione Campania di poter avere finalmente un po' di risorse in più per la città di Napoli perché il Governo, lo dirà dopo il Vice Ministro, ha messo in campo interventi significativi per l'edilizia pubblica popolare nel nostro Paese e quindi poi dopo ci sarà anche una visita a Scampia, abbiamo illustrato quanto riteniamo importante il progetto Vele in generale, non solo per Napoli ma per il nostro Paese. insomma ci sono tutte le condizioni per poter fare un lavoro sempre in maggiore sinergia e cooperazione tra le varie istituzioni, Governo nazionale, Governo locale e auspichiamo sempre di più anche il Governo regionale sotto il profilo dei finanziamenti che sono assolutamente necessari. Io se siete d'accordo dare la parola al Vice Ministro che ringrazio di questa risposta. Grazie. Aggiungerò poche considerazioni a quelle già fatte dal vostro Sindaco. Noi ci vediamo per la prima volta a Napoli, non è la prima volta che io vengo a Napoli ma diciamo che è il primo incontro con il vostro Sindaco e con molti dei vostri assessori che si occupano della casa. Il primo incontro è stato, mi pare, nel mese di luglio. Ci siamo visti quasi settimanalmente fra luglio e il mese di ottobre per mettere in cottura tutta una serie di questioni legate, questioni Italia per quanto riguarda la casa ma con un'attenzione particolare a Napoli. E devo dire che questo lavoro ha prodotto, grazie al lavoro assiduo dell'amministrazione comunale, sta producendo degli effetti che sono degli effetti significativi e ne sono assolutamente felice. Nella società dell'immagine noi vediamo soprattutto e vedremo soprattutto questa grande operazione Scampia. ho invitato il Sindaco il 4 marzo a Bari parentesi, stiamo lavorando al nuovo piano città per l'Italia. C'è stato un primo incontro che abbiamo ottenuto a Napoli intorno alla fine di gennaio a Milano intorno alla fine di gennaio faremo il prossimo a Bari il 4 marzo per chiudere poi con un'ipotesi normativa sul nuovo piano città alla fine di marzo, inizio di aprile. Ho chiesto al Sindaco di venire a raccontare questa storia ma non è soltanto la storia Scampia è la storia del governo dell'edilizia residenziale pubblica in una grande città dove il tema della densità abitativa e del rischio abitativo perché Napoli, come altre città italiane, coniuga entrambi i fattori comincia ad essere governato. Noi viviamo naturalmente, le società umane vivono secondo il confronto quando noi vedemmo i primi dati col capogabinetto del Sindaco a luglio non nego che rimasi abbastanza stupefatto perché diciamo che l'eredità ricevuta è un'eredità che possiamo reputare non perfetta dichiariamola imperfetta il lavoro che è stato fatto nel governo di un patrimonio che è rilevante perché qui avete circa 63-64 mila cespiti ne abbiamo parlato poco fa e i dati collimano esattamente con quelli del Ministero richiede naturalmente un'attenzione del tutto particolare richiede, come ricordava il Sindaco Finanziamenti sulla vecchia linea la regione Campania ha ottenuto circa 50 milioni di euro per interventi di piccola manutenzione e di manutenzione più larga complessivamente in Campania mi pare che riguardino circa 2200 alloggi sarei felice se Napoli non avesse una lira perché significherebbe che non ne avrebbe bisogno temo che una parte di quei 50 milioni invece possa avere diritto di cittadinanza se mi posso permettere di esprimere un'opinione anche purtroppo nella città di Napoli non conosco città italiane che non abbiano necessità di interventi piccoli o grandi sull'edilizia e residenziale pubblica chi più, chi meno chi più interventi piccoli chi ha necessità di interventi più grossi però diciamo che Napoli purtroppo non può essere espunta da interventi di questa natura abbiamo parlato anche di come governare i beni confiscati dalla criminalità qui ce ne saranno ne arriveranno in patrimonio del comune e l'obiettivo di utilizzarli non più per fini definiamoli istituzionali per cui recupero 100 metri quadri il destino è la caserma altri 100 metri quadri il destino è la guardia di finanza o che altro ma provare a socializzarli infilandoli nel cuore della città è un'operazione che è assolutamente condivisibile ricordo infine che nel bilancio dello Stato che riguarda l'anno in corso l'anno in corso il prossimo anno il 2019 è previsto per quanto riguarda la sicurezza e le periferie per Napoli circa fra gli 11 e 12 milioni quindi una cifra che può essere che può essere utilizzata compiutamente soprattutto sulla base dell'attività di censimento che è in corso di censimento censimento vuol dire riportare in trasparenza un patrimonio edilizio enorme chi vive all'interno di pezzi di quel patrimonio edilizio l'ultima questione e ho concluso ci veniva ricordata prima dall'assessore la leggevo stamattina sui giornali quella dell'ipotesi di vendita di una parte del patrimonio in questo caso post norma post terremoto la 219 mi pare in modo tale da consentire a chi vi abita la capacità di acquisto ad un prezzo che naturalmente non può essere e non deve essere prezzo di mercato come recita fra l'altro non soltanto una norma un addendum alla norma principale ma come recita peraltro una norma mi pare del 2014 che riguarda l'edilizia residenziale pubblica Italia dove in caso di vendita c'è un diritto di prelazione per chi abita all'interno all'interno di quell'alloggio se aggiungiamo a questo pacchetto di iniziative che sono in corso anche il quadro Scampia direi che si può concludere con ciò che si vedrà fa il paio come deve essere con ciò che non si vede e l'amministrazione l'amministrazione pubblica la buona amministrazione pubblica è fatta esattamente da questi due fattori ci sono fattori simbolo che vanno spesi ma poi bisogna che ci sia la macchina quello che non si vede ma che produce quotidianamente quotidianamente farina ecco e la messa in ordine di questo patrimonio sono assolutamente felice che gli incontri fatti la macchina cosa che non si vedeva però abbiano siano stati recepiti compiutamente con un lavoro che l'amministrazione peraltro già stava facendo posso aggiungere due considerazioni per completare il quadro abbiamo illustrato anche al viceministro le normi che già conosceva però siamo entrati un po' nel dettaglio le enormi difficoltà che l'amministrazione ha trovato nel passare da una gestione di circa 20 anni di affidamento all'esterno del patrimonio immobiliare alla Romeo all'internalizzazione con Napoli Servizi il secondo punto anche per lo ringrazio di aver citato questo lavoro che stiamo facendo sugli alloggi popolari da vendere a nuclei familiari particolarmente bisognosi a prezzi che non siano di mercato ma siano prezzi assolutamente accessibili ha non solo un grande valore sociale in una città in cui le fasce popolari e bisognose sono profondamente radicate ma batte anche progressivamente dei costi notevoli per l'amministrazione perché altrimenti si deve fare carico di manutenzioni non solo ma anche di oneri condominali all'interno di alloggi in cui insistono comunque delle unità abitative del comune di Napoli ultime due considerazioni rapidissime abbiamo illustrato al vice ministro anche nel dettaglio le operazioni importanti che si stanno facendo sul tema dell'abusivismo condono acquisizione degli immobili al patrimonio del comune di Napoli e come questa operazione viene fatta per far uscire dalla precarietà situazioni che meritano di essere stabilizzate perché si tratta di cittadini che non vogliono altro che entrare in un circuito di regolarizzazione delle pratiche ma nello stesso tempo anche di individuare situazioni assolutamente inaccettabili cioè di persone che sono nascoste stanno in un circuito di illegalità che va verso il crimine e addirittura di individuare insieme ad altre articolazioni dello Stato contesti particolarmente permeati da criminalità anche organizzata dove chiaramente come potete intuire ci saranno gli interventi necessari per lavorare in quella direzione quindi si sta mettendo in campo e noi avvertiamo la vicinanza del governo da questo punto di vista un'azione che consenta veramente per la prima volta nella storia di questa città di affrontare veramente metro quadro per metro quadro ogni situazione della nostra città tenendo conto dei bisogni sociali e dei bisogni effettivi e quindi anche delle operazioni di legalità di trasparenza e di correttezza amministrativa e quindi da questo punto di vista ci auguriamo ecco chiudo su questo l'ho detto io prima l'ha detto il viceministro adesso e lo sottolino nuovamente io siccome lo Stato ha impegnato e sta impegnando delle risorse che possono essere decisive per la nostra città siccome viviamo un momento storico in cui possono anche mutare equilibri politici ci sono alcune certezze che sicuramente non possono mutare che è la geografia del nostro paese quindi sappiamo che le città le grandi aree urbane hanno bisogno di risorse adeguate e ci auguriamo chi ha il depositario di queste risorse tenga conto che la città di Napoli è una città che deve essere necessariamente destinatari di risorse che lo Stato ha messo a disposizione delle regioni perché come sapete non abbiamo la possibilità che io auspico ma ancora non abbiamo raggiunto che le città e in particolare le città metropolitane siano direttamente destinatari di fondi che a noi sarebbero utilissimi siccome noi abbiamo messo in campo un'accelerazione come si ricordava Pocanzi davvero grande noi vogliamo produrre un consolidamento dell'accelerazione il consolidamento dell'accelerazione passa attraverso uno snellimento sicuramente anche dell'attività burocratico e amministrativa su cui stiamo lavorando però abbiamo necessità di quella quota di denaro che lo Stato ha messo in campo nelle regioni di poter avere la possibilità di accedere a una quantità proporzionale all'esigenza della città di Napoli per poter realizzare nuove alloggi cioè questa è la vera sfida noi stiamo realizzando alloggi a Scampia Chiaiano Soccavo Pianura Ponticelli insomma in tanti quartieri di Napoli ma con queste risorse che lo Stato ha dato alle regioni se noi riusciamo come dire ad entrarne a captarne come giusto e doveroso che sia noi possiamo fare un salto di qualità perché parliamo di centinaia e centinaia e centinaia di abitazioni e di alloggi importanti che si possono realizzare in sinergia istituzionale grazie a tutti Grazie.